La biblioteca comunale di Bibbiena non smette di lavorare. Piano piano si sta tornando a regime nei servizi che solitamente la biblioteca forniva ai cittadini del nostro comune e non solo. Dal 21 luglio infatti è possibile effettuare la consultazione dei libri perché poi vengono presi in prestito successivamente. Fino ad ora il prestito era solo o a domicilio o prenotandolo precedentemente per poi effettuare il ritiro presso la biblioteca. Dal 21 luglio invece è possibile sempre tramite prenotazione durante l'orario d'apertura della biblioteca poter effettuare una ricerca appunto più approfondita all'interno della biblioteca stessa e poi prendere il libro in prestito. Questo è un ulteriore passo che abbiamo fatto per tutti i nostri cittadini e che ovviamente comprende non solo i libri per adulti ma soprattutto anche i libri per i nostri bambini. Una cosa molto importante è che i nostri uffici anche durante il periodo del lockdown non si sono mai fermati ed hanno sempre arricchito il patrimonio bibliotecario con le nuove uscite. Quindi chiunque fosse interessato ovviamente a consultare le ultime uscite qui le può trovare. Ovviamente ci sono dei servizi che ancora non sono ripartiti ma che stiamo aspettando le linee guida per poterlo fare come ad esempio gli studi in biblioteca e si spera che questi possono essere riattivati in breve tempo quantomeno a settembre con l'inizio della riapertura della scuola.